Su anche a Reggio Calabria e provincia i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto da parte della popolazione delle norme di contenimento del contagio da coronavirus emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, come noto, prevedono spostamenti soltanto in caso di comprovati motivi di necessità e urgenza di salute e lavorativi. Pattuglie di polizia, carabinieri, polizia locale e polizia metropolitana sono impegnate su tutto il territorio fermando auto e mezzi per controllare se chi è a bordo stia realmente rispettando le importanti disposizioni in vigore in tutta Italia fino al 3 aprile. Le forze dell'ordine, anche con pattuglie in borghese, verificano l'identità delle persone e chiedono di mostrare l'autocertificazione sulla quale vengono comunque svolte successivamente verifiche circa la reale sussistenza delle motivazioni indicate dal cittadino. Centinaia gli automobilisti controllati nel corso di alcuni posti di blocco, numerosi, usciti senza alcuna ragione e motivo, sarebbero stati denunciati. Non bisogna dimenticare che bisogna portare dietro un'autocertificazione. Nel documento, che deve essere firmato dal cittadino e dall'operatore di polizia, bisogna indicare che il viaggio è determinato da una di queste quattro motivazioni. Comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Se non si rientra tra questi motivi, si può arrivare ad essere sanzionati penalmente, rischiando l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.